No, nel senso, prima non ti vesti poi in italiano Ciao, sono Riella, sono italiana anche io e sono ad Istanbul con i miei amici siamo qui da una settimana questo è il terzo giorno che siamo qui in questo bellissimo negozio che voi non potete vedere adesso, però veramente figo vi consiglio di venire in questo luogo perché le malette costano veramente, veramente, veramente poco che di resta, buon amici! Yeah, spero!